Viniteli 2019, Padiglione Friuli. Su invito di Vino 75 siamo venuti a trovare Joe Bastianich, di certo non ha bisogno di presentazioni, quindi una domanda secca. Qual è il tuo vino preferito? Dai miei vini che produco io, ovviamente il Vespa bianco, l'Uvaggio bianco, il vino principale dell'azienda, il vino che rappresenta un po' la mia idea di un vino bianco. Un Uvaggio bianco, Sauvignon Chardonnay Piccoli, ma più delle varietà, questo vino esprime la potenzialità di un terroir di fare grandi vini bianchi. Questo è un vino strutturato, corposo, che secondo te si accoppia su che abbinamento? Sicuramente primi, paste, burro, ricotta, carne bianca, tutte quelle cose lì, perché è un vino con estratto, con glicerino, è un vero... se chiudi gli occhi pensi che fosse che bevi anche un vino rosso, per dire. Addirittura, quindi molto intenso, molto deciso e che si presta tutti i piatti abbastanza corposi, carne bianca e pesce. Il mio piatto oggi ho nella testa linguine vongole, qualcuno portami un bel piatto di linguine, sennò devo andare a Sorrento. Ragazzi vi raccomando vino75.com per comprare il mio vino Vespa bianco, ciao ciao.